allora Velox se mi dai un minuto ci terrei a dirti una cosa che io non ti ho mai detto in un anno che è una cosa che per me conta molto allora è passato un anno quando abbiamo giocato noi per la prima volta quando mi hai cercato per la prima volta perché ti avevano detto in live c'è Lucone, gioca con Lucone avevi visto delle clip e tutto hai deciso di giocare con me allora quello è stato per me un grandissimo regalo perché proprio in quel momento era accaduto di tutto nella mia vita, esattamente un anno fa, io non te l'ho mai detto ma tu mi hai beccato proprio in un momento dove, e non lo sapevi avevo il covid, avevo mia madre gravi in condizioni in ospedale purtroppo è morta e poi mi sono separato e poi mi sono anche separato e io mi ricorderò sempre con affetto quei momenti spensierati e te lo dice una persona che comunque è matura che malgrado l'età è sempre un essere umano e mi ricordo sempre con il cuore la tua sincerità la tua umiltà la tua voglia di giocare con me proprio spontanea ah beh Lucone nel senso alla fine fa piacere a noi ugualmente quindi non vederla come qualcosa di così no no però umanamente abbinata a quel periodo visto che io ero anche in un altro tipo di livello anche come streaming e tutto il resto è stato un regalo enorme ma non vederlo così Luca non vederlo così per me a livello personale per me a livello personale è una cosa che mi porterò per tutta la vita ti ringrazio anche dopo che hai lasciato quasi due mesi il tag degli L1 è stata una cosa meravigliosa e te ne sarò sempre grazie infatti me lo dicevo una volta che parlavi del fatto che avesse ancora il tag è stata una cosa meravigliosa bene extra c'è uno sul tetto raga fatto vamos ok poi un giorno chissà un giorno se il signore vuole se ci sono le possibilità mi farebbe piacere trasformarla in agenzia beh se se vi muovete bene perché no cioè nel secondo è una roba impossibile anzi ah no assolutamente no ah l'hai ucciso dove hai tamingato eh no si era allendato si era allendato con l'elicottero era giù ah ok perfetto ragazzi prendete altri soldi che ci facciamo un altro al volo si ti lascio i soldi qua davanti si stanno scannando proprio vai a dire vamos come Dario e Velox va bene vamos grazie Dani per i 10 stai a posto Dani arrivo a V anche perché Dani c'è la taglia una squadra nemica ti sta braccando allora forse c'eravamo anche più di tieni vai ok ok a sinistra vai il calazzo nostro vai ci siamo come ben odio di non ritrovare il tipo con l'RPG ok l'ho visto mi sa che si butta entro dentro vogliamo salire o vuoi stare basso allora vediamo un po' no sopra noi sopra noi andiamo 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 morto uno mi fa l'altro mi fa l'altro stavi vai vai copro io copro io grazie è andata addio fermi 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 attimo è inutilizzabile quest'arma giuro ok devo andare a fai dare dietro eh ce l'ho dietro mi son buttato mi son buttato mi lancio ci vabbiamo indietro devo stare fermo qui perché se no mi fa raga è sopra di me vai 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 sorry per lo scam lupone no top va benissimo ti tiro un un grappolo Leo così magari sono già sotto è sotto lì ok andiamo a fare una B sotto ragazzi andiamo a fare una B vai vabbiamo cassa rossa qui vai ancora sempre nella stessa casa sono sotto però adesso sto luttando stanno qua stanno qua stanno qua si si vai andiamo 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 mi sono letteralmente perso morto questo ce n'è uno a destra fatto un altro c'è l'ultimo ottima uccisione Marco il resto della squadra dove è l'altro? qui sotto è one shot mi chiude bastardo torna Dario ti resto sta salendo sta salendo su eh top lancio di equipaggiamento in arrivo mi sparava ma sparavigliato vado verso il loadout raga tanto passi Luca avete gente sul tetto qua eh li sento li sento è qua qua sopra me lo pingo vado a prendere loadout e arrivo eh passi sotto Luca passi sotto mi sa aspetta che finisco questo vai ok bravi 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 buono bravi bravi mettete uno ragazzi scusate wavvy 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 arrivo arrivo potete farlo anche voi rasta già Luca Luca davanti davanti lontano oltre oltre la strada uno silenda uno silenda qua faccio il wav ok faccio i soldi ok vai li ho fatti lì perfetto venite con me sulla sinistra però eh venite con me sulla sinistra è pieno 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 eh bellissimo venite venite ma era quanta gente c'è come è sommatico venite 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 li prendiamo tutti con le bombe stanno pestando eh staccato morto uno bravi 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 ragioniamo torniamo indietro a fare un altro wavvy ragazzi abbiamo un minuto ne ho un altro ne ho un altro ne ho un altro da parte non si va neanche andare tiro via esatto abbiamo visto dietro i container dietro i container arrivo arrivo c'è un altro che sta atterrando c'è uno al carrello eh bravi bravissimi bravissimo sta che c'è un wavvy che so un altro wav ce l'abbiamo io lo compro adesso uno eh vai tiralo prima tu se vuoi io ne ho droppati due se li prendete ragazzi che hanno uno spazio bravi sì sono con due vitraglietti c'ho l'aricain come secondario long range abbiamo tre wavvy da parte va bene ok butteremo uno tiro vado vamos vamos è tutta a destra venite con me all'altro palazzo giocando così vicini giuro è impossibile morire ecco l'ha detto allora prendiamo prima ragazzi prendiamo prima la fuda e poi ci spostiamo sulla destra ok tutto a destra entriamo qua dentro ed è fatta attenzione eccolo eccolo dietro altro palazzo è sceso giù questo uno è sceso giù uno è scettissimo ok giù sull'altro palazzo tira l'altro wav vai io andrei nell'altro palazzo mi sposterei tutto dritto in basso tutto dritto in basso dobbiamo prendere questi due vai 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 andiamo in acqua in acqua guarda guarda ho fatto uno metterlo ok bravi guarda questi treni abbiamo tre qua sopra questi devono emergere ora uno sul ponte ragazzi è scettissimo cosa vuoi fare vuoi fare un altro giro mi spara ma dal ma a sinistra non li vedo uno ce l'abbiamo sotto al ponte qua sotto il ponte è pieno venite con me venite con me sul ponte andiamo andiamo da luca occhio sono morto però ragazzi fatto fatto restatemi con restatemi ah ok uno sta lendando no niente non puoi rischi stare qui in mezzo stiamo sotto il ponte due sotto il ponte ma che stanno facendo questi qua comunque bombardamento luca occhio non atterrai e tirci al bombard mori mori ma è impossibile colpire questi eh ho ucciso l'ho ucciso ho ucciso ho ucciso ho ucciso ho ucciso l'ho ucciso lo ucciso è una ucciso faccio mui l'acqua mi serve i muri io c'ho niente arrivarò arrivarò tirami la smoke se mi piassi mi ha autoresto mi ha autoresto ma adesso ci siamo ci siamo Possiamo comprare un altro UAV Abbiamo i soldi Anche due in realtà Ok salgo sopra Dai la compra UAV Tieni Forse puoi vendere due addirittura No uno solo Bravo Lucone dove sta? Ok fincando è perfetto Stiamo sopra o basse? Senta qui sotto e poi saliamo Ne abbiamo uno a destra eh Uno è proprio a fianco a noi mi sa Sono qua dentro Salì qua Piano 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 Passi paranti Bravo L'ho visto qui L'ho visto qui Passano passati Ok ma si buttano probabilmente L'altro è ancora dentro Uno è qua sotto L'hanno si è buttato Fatto uno Via bravi Mi sta laserando Occhio Luca che è qua sopra Mi sta laserando anche a me Mi prende dietro È la sinistra questo Guarda guarda L'ho craccato Mi sa che sono più di uno Mi hanno avvistato Ragazzi venite con me Ho fatto uno Fatti due Morto l'altro Fatti l'ultimo Ragazzi venite Continuando ad avvistare Sono un coglionito Prova a restarmi dare al volo Ti resta Ci siamo Ci siamo Mi hanno tirato roba Ok dobbiamo andare Sono sopra mi sa Ok aspettiamoli qui Scendete giù ragazzi Scendete giù Scendete giù Tanto passi eh Non so se sono sopra o sotto Sì sono sotto mi sa Tutto a sinistra Tutto a sinistra No sono sopra allora Andiamo 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 con lui Seguo Lucone Seguo Lucone E ci prendiamo Quest'altro palazzo qui Eh vai Puoi salire con la fune eh Sì L'abbiamo qua eh A sinistra Sento Sono salendo Vai bravi Bravo Bravissimi Bravi Confermata Praticamente qua a destra C'erano dei tipi Ma secondo me Sono già andati in safe Probabilmente sì Allora Allora ragazzi Ragioniamo eh Ragioniamo Noi dobbiamo prendere Questo palazzo Quindi dobbiamo prendere Il droglione E andare sul palazzo Facciamo una vera l'opera Tutta pulante Vai Vai Non lo so Non l'ho presa al volo Vamos Ok sta qui C'è un tipo eh L'indiamo uguale Sì 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 di qua Sì di qua Sono A terra Fatto Forse ce ne sono altri eh Sì Giù uno Perfettissimo Ma che cosa ho appena visto È assurdo Sotto Sotto bombardamento Siamo giù Mi hanno pingato Mi hanno avvistato Mi hanno avvistato Pure Stiamo qui Stiamo qui Stiamo qui Passi È sopra di noi Luca È qua a sinistra Morto Mamma mia Bravissimi Bravissimi Vai trovi sotto A destra A destra Rimanete qua Rimanete Sotto di noi Sotto di noi Rimanete a questa parte qui Ok Eccolo Ragazzi Qui È intratissimo Intratissimo Sente Partita Bravissimi Ho craccato questo qua Eh no Eh no Non c'è andare Non c'è andare Eh vabbè È una bella free kill È vuoi inciutissimo Sotto in open qua uno Ah Mi hanno avuto tutto Morto Bravissimi Io ricompro qui Mi tiro una cassa di muni Se volete rifullarvi Sono qui davanti Ho craccato uno Lucone Dici Io sto sparando Da per tutto Tiene un'adesiva Intento Leo Craccato A terra Ok Ok Adesso andate Morti 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 C'è uno lì dietro Guardate che ho pingato Uno crossa ora C'è un RPG Ragazzo C'avete la maschera? Sì ce l'ho Eh no Purtroppo no Allora ragazzi Io smocco Ucciso Ucciso Ragazzi Io smocco E vado dietro alle cinture Sono in acqua gli ultimi Andiamo con te Luca No uno sotto Uno sotto Uno sotto Uno sotto Siamo Mi laser Non l'ho visto Aspetta Buttati giù che c'ho il flare Vai Ce l'hai dietro Dario C'è Lucone Ce l'hai dietro Ti ha fatto il giro Aspetti sto attaccato Morti Ok Erano in acqua gli ultimi In acqua ragazzi Non c'ho più piastre Non c'ho più piastre Ne ho io Ne ho io Lucone Minchia aspetta Mi hanno te graviato Minchia mi stanno crackando Con le sempers Uno verso Uno verso Uno Fatto uno Ok Riprendi da destra Riprendi da destra Fatto uno E qua l'ultimo Va E ne uno E ne uno E ne uno E ne uno La bananata La bananata Ragazzi La bananata Grazie Il lò per gli otto Grazie bro Il solo per voi Il solo per voi